Buona serata a tutti cari amici social follower, scusate un po' la canottiera ma davvero si muore in questi giorni di caldo ovviamente, purtroppo, è l'estate. Come dice il titolo il calcio mercato entra nel vivo, le trattative si fanno più fitte, quindi diciamo dalla pigrizia dell'europeo che appunto è finito adesso si penserà davvero a fare sul serio, sia per quanto riguarda gli affari di vendita e compere di giocatori, le sgambate di precampionato delle squadre che più o meno tutte hanno iniziato i ritiri di prestagione. Ovviamente io da milanista mi auguro di vivere una stagione con qualche passo in più rispetto all'annata precedente e speriamo di vedere un campionato intrigante. Ovviamente c'è da menzionare il cumo tra le neopromosse per una campagna acquisti come primo anno a distanza di tanti anni abbastanza importante. Ovviamente poi sappiamo quello che conta è la condizione fisica, atletica, tecnica, tattica, mentale soprattutto. Ovviamente l'inizio di stagione con le prime tre giornate e poi la sosta come ogni anno ci dirà il primissimo passo di tutte le compagini. Quindi sono già iniziate, come ho detto, le amichevoli pre-season, per le big tra qualche giorno anche loro incominceranno le sfide di precampionato. Il mio parere su Morata, che per ora non è ancora ufficiale al Milan, ma lo potrebbe diventare a breve, tutto dipenderà dalla condizione in cui si troverà. E dal modulo di gioco ovviamente se le prestazioni sono 60-40, 60 almeno 40 così così diciamo ci può stare. Se poi è un flop, insomma, però il futuro ce lo dirà. Ciao a tutta la prossima, ciao!